Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi voglio fare vedere come vestirsi davvero riccone con pochissimi soldi allora io spendo soprattutto soldi investiti in giubbotti per moto perchè hanno la protezione se c'è qualcosa dove posso risparmiare se sono di marca o me li compro con sconti ma sconti forti oppure non me ne compro preferisco andare in in qualcosa che ci assomigli alla cosa che più desidero in modo tale che gli riesco in qualche modo ad arrivarci senza spendere troppi soldi che poi me ne pento perchè se si rovinano poi ho speso tutti quei soldi per niente pertanto iniziamo così vi piacciono le cose Versace andate su Amazon o su Temu e cercate io vi consiglio Amazon che sono un po' meglio anche se costano di più ma sempre prezzi non a 300 euro come la Versace e sono belle comunque questa è una camicia che è simil Versace barocca che mi è costata la bellezza di 30 euro pertanto questa bella camicia così mi è costata solo 30 euro e io ve la consiglio purtroppo non c'è più perchè quelle là che assomigliano troppo a Versace ci sono camicie barocche ma questa non la trovate più l'ho comprata l'anno scorso poi allora poi c'è questa bella cintura con leone tutta ornamentale nera che mi è costata e questo è zinco è zinco mi è costata pochissimo sulla ventina di euro una bella cintura perchè se la prendevate Gucci o qualunque altra cosa vi costava almeno io ho comprato una cintura sola Calvin Klein e mi è costata 50 euro ed è c'è scritto solo ck ck tutte le parti e non mi sembra il caso di spendere 50 euro per una cintura mentre con 20 euro ho una cintura con la fibbia veramente bella che ci sta benissimo con questa camicia che è tipo Versace perciò ho una una bella cintura poi i jeans li ho comprati originali della Wrangler ma non sono costati tanti su internet c'erano gli sconti come vi ho detto che le compro le cose di marca ma solo si hanno gli sconti e li ho comprati di marca cioè le preferisco di marca le cose ovviamente però se 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 c'è la possibilità di non c'è la possibilità di comprarli a basso costo io me le compro simili per avere risultato simile poi alla fine cos'è il tessuto è simile a quello poi ho questo anello aspetta che lo metto a fuoco non si vuole mettere a fuoco ecco ecco che è veramente bello è sia dorato sia argentato è fatto di metallo è per il mio dito allora io vi consiglio i gioielli questo qua l'ho preso non di marca ma solo perché la misura delle dita è troppo grande e di marca non esistono se no ci sono dei bellissimi anelli con il leone che non costano nemmeno tanto della guess che io sono andato a cercarlo eh perché infatti questo anello non me lo metto quasi mai perché eh non è di marca pertanto se potete i gioielli compratevi sempre di marca perché a prendere un'allergia una minchiata non si sanno male cosa la vita poi cosa ho fatto siccome io i rolex non ce l'ho e non penso che potrò mai permettermi un Hulk allora l'ulk mi piace come orologio il Sam Banymer però è troppo piccolo per me per il mio polso perciò ho detto ma prendiamoci un 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 omaggio non una copia perché vi ripeto l'ulk per me della rolex è troppo piccolo per il mio polso ho trovato questa copia dell'invicta che è bellissimo ed è simile all'ulk anche come colore è tutto ed è un omaggio dell'invicta all'ulk ed è più grosso ed è arriva è per andare in piscina perciò camicie tipo Versace orologio tipo Rolex anello tipo Gucci cintura così i pantaloni sono di marca intanto sono riuscito a dare un'impressione di me che sono con i soldi che vesto bene elegante così uno si compra le cose di marca perché vuole sembrare più bello e secondo me anche così in questa maniera un po' presi in giro diciamo uno ce la fa a sembrare più interessante poi un'altra cosa io c'è il profumo Gucci che mi è costato 100 euro ma io vi dico che con ben tre for men intense che costa solo la bellezza ora su Amazon non su Amazon su Amazon non vi conviene comprarlo ma su un notino è a 20 euro lo mettiamo qua fate una figura pazzesca pertanto 20 euro di profumo buonissimo invicta più grosso del 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 look della Rolex un bellissimo orologio infatti è più grosso 200 metri di profondità il Rolex arriva a 300 ma a 200 metri io non so dove ci arriverò mai di profondità ci dovrebbe schiandare un aereo praticamente nel mare l'anello tipo Gucci la camicia tipo Versace già ho un impatto di me quando mi vedono così le persone che anche con quel profumo e tutte cose che sembro uno che vesse bene uno che vesse che si sa vestire che ha cose di marca eccetera eccetera invece di aver speso 40.000 euro per il Rolex 200 euro di profumo 800 euro mi pare che è quello Gucci una cintura così costa Gucci altre 600 non lo so quanto può costare jeans sono originali ve lo ripeto se io trovo qualcosa originale che mi piace veramente e che a buon prezzo io la compro subito soprattutto se è scontata pertanto è arrivare a quello che mi piace con il minimo una minima spesa e secondo me è una riuscita pazzesca io ce l'ho profumo Gucci attenzione mi è costato 100 euro e c'ho il Gucci Guilty Absolute per le giacche di pelle l'ho preso quello là e vi dico che questo Bind for Man Dance è più buono pertanto alla fine concludiamo dicendo che uno può essere anche vestito bene spendendo poco così faccio una bella figura spendendo la metà della metà della metà dei soldi che avrei speso comprandomi tutto originale perciò io dico invece di vestirsi comprarsi qualcosa di originale spendere tanti soldi invece uno si compra tutto nella maniera più consona e spende i soldi giusti più secondo me è felice perché io potevo comprarmi tutte cose originali ma quanto avrei speso poi si sarebbero rovinati e avrei speso tutti quei soldi inutilmente e poi non sono cinesate sono cose buone sono cose prese da amazon voglio dire solo questo non è tanto invicta è una buona marca anche se è l'omaggio del rolex questo voglio dire comunque ragazzi potete vestirvi come volete potete spendere quello che volete ma se trovate un modo di spendere meno e avere quello che volete secondo me è la cosa migliore iscrivetevi al canale potete essere elegantissimi con poca spesa iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video vedetevi gli altri video che io parlo di tantissime altre cose a presto no